Stiamo col pensiero tranquillo, l'oro non credo. Intanto Michela Vittoria Brambilla presenta il programma del suo Movimento Animalista. Il Movimento Animalista rinnova la sua trasversalità, la ribadisce e chiarisce oggi che non ci sono coalizioni, non ci sono alleanze predefinite. Noi saremo solo eventualmente con chi condividerà il nostro programma e se noi condivideremo il suo programma. Il Movimento Animalista annuncia le sue linee programmatiche. L'onorevole Michela Vittoria Brambilla Milano presenta l'agenda per un'Italia migliore. Non solo diritti degli animali, con modifiche al codice penale e la delega al governo per la codificazione e il riordino delle norme, ma anche difesa dell'ambiente, dalle risorse idriche all'energia. Nell'agenda anche fisco, lavoro, welfare, turismo e mezzogiorno. Anche un grande impegno per far uscire dalla povertà quei quasi 5 milioni di italiani che ne sono afflitti, piuttosto che un impegno ulteriore del nostro paese per la pace. È il primo neopartito a presentare le sue linee guida, ma sulle alleanze Michela Vittoria Brambilla non si sbilancia. Noi siamo molto concreti, abbiamo degli obiettivi concreti per noi prioritari. E su quello noi lavoreremo. Con chi ci starà? Sui programmi. Niente alleanze, niente inciuci. Vediamo cosa succederà. È molto presto per fare queste valutazioni quando non sappiamo ancora come sarà la legge elettorale.